con le sangue finto cioè cazzo è palesemente un pezzo di carta rossa è su è davide nixon è su è palesemente un pezzo di carta alle auto delle lspt ma è l'auto di questo master si manca danno e si spostano è su sta andando più sopra con la macchina questo il casco non c'era non c'era il casco è per lì qua siamo a Miami ma non c'è live non c'è live non c'è live è una fantasia la mananza più bella oh la macchina sta prendendo ma che sta prendendo questo è una fa piccnic questo è una fa piccnic è una fa piccnic ah quello è morto quello è morto questo cazzo fa oh quello è il detective quello di ilanoire dub ma ma ieri si ma ieri ma ragazzi è palesemente un foglio di carta questo cazzo fa si mettono a giocare con i gs in terra come cazzo fa no le ha sporcato la divisa no le ha sporcato la divisa che sta andando male no la divisa non l'hanno mai cambiata questo è palesemente patate durante le riunioni durante il conflitto con i meme questo è messo che è questo maven la testata contro la mano esatto guarda 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 ora ora guarda 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 cosa gli sta facendo guarda principalmente age che deve dire perché guida col casco c'è ronaldi per tanti proiettili ma usa il casco vabbè lo ha usato proiettili quanti proiettili può essere che è sotto